bentornati nella mia cucina oggi vi presento una ricetta fresca fresca l'insalata di anguria e feta e un insalatona estiva fresca e gustosa mi piace tanto giocare con questi abbinamenti di frutta e salato e questo piatto è davvero buonissimo lo preparo spesso da portarlo al mare e gustarlo sotto l'ombrelone fatta così diventa un piatto nutriente e comunque molto leggero l'insalata di anguria e feta si prepara effettivamente in 5 minuti e senza la cottura è fresca colorata sana e gustosissima perfetta come piatto unico antipasto o addirittura contorno rinforzato ovviamente il tutto insaporito con l'olio essenziale di basilico puro testato e certificato usa l'anguria bella fredda il peso e senza buccia la ricerca sull'olio essenziale del basilico dice che ha effetto antibatterico sullo staphylococco enterococco e scerichia coli il contenuto in flavonoidi contribuisce nel proteggere la struttura delle cellule e dei cromosomi dai danni provocate delle radiazioni e anche dei radicali liberi l'eugenolo contenuto inibisce l'enzima che provoca l'infiammazione dunque utile come anti infiammatorio a piacere se volete un po di cipolla rossa